Images si propone sul mercato italiano come principali distributori di componenti per la realizzazione di sistemi di image process e segna per vari campi a livello industriale, medio e scientifico. Ad SPS abbiamo guardato molte novità tecnologiche, per esempio i vici industriali a Quantec per quanto riguarda la visione, di cui siamo diventati distributori proprio in questo mese. Poi abbiamo anche delle smart cameras che ci consentono di essere utilizzate in modo molto più facile dagli utenti, ma abbiamo anche una serie di prodotti che possono essere programmati dai clienti e quindi personalizzati al massimo. Abbiamo presentato le Genie XL, nuova famiglia che fa parte delle Genie della teleline d'Alza, leader mondiale della visione. Sono telecamere molto performanti, hanno la particolarità di essere piccole e di essere in grado di essere usate in varie applicazioni. Poi abbiamo anche i nostri sensori 3D, il GoCator in questo caso il 3109, l'ultima comità che stiamo presentando, che sono i vari sensori nuovi per le applicazioni 2D 3D.